Che ricordo ha di quei giorni di grande emergenza? Allora, il giorno 5, ricordo della mattina, andai al cimitero, perché il 5 è la data che nasce del mio fratello e non c'è più. Quindi fui fermato da tantissimi cittadini, la mattina andò così, il pomeriggio tagliai l'erba del prato e poi passai tutto il pomeriggio, sino a tardi, a correggere da proto le ultime bozze del piano strategico della città che sarebbe dovuto andare in Consiglio Comunale intorno al 15 di aprile. La sera andai a letto, prima di andare a letto stavo guardando una partita che si era prolungata, arrivò la prima scossa. Poi cominciarono quella serie di telefonate su cosa fare il giorno dopo con il questore, spiritore che era allarmatissimo e poi, come tutti, alle 3.32 fui svegliato dal sisma. E di lì cominciò una tempesta che credo che ha coinvolto tutti e che ci ha profondamente cambiato. Qual è stato il momento più difficile? È difficile dire qual è stato il momento più difficile. Vorrei dire, non so, è il momento che mi sono reso conto del fungo sulla città. Mia suocera dice che gridavo, l'acqua è finita, l'acqua è finita. Il momento più difficile è stato quando mi è arrivata la notizia dell'ospedale, che aveva riportato serie d'anni il giorno dei funerali. Poi sono stati tutti momenti difficili, perché è come quello che sta succedendo adesso col coronavirus. L'emergenza è un fatto dinamico, il fatto che escano decreti uno dopo l'altro, che ci si interroghi e perché non c'è scritto da nessuna parte come si affronta la discussione completa di una città dopo un sisma, come si gestiscono 80 mila sfollati che non hanno acqua, non hanno un bagno, come si fa ad affrontare un'epidemia, una pandemia in un paese come il nostro, con un'economia così complessa, città che vivono con grandi addensamenti. Quindi tutte le emergenze sono qualcosa che non ti cambierà mai. Invece il giorno più bello qual è stato in questo momento di buio, di ombre? Ma il giorno più bello è un po' difficile, forse il giorno più bello per me fu quando rividi la famiglia dopo 25 giorni e mi accorse che Federico, che allora aveva 14 anni, stava cambiando, era cresciuto un po' di più. Il giorno più bello fu quando dei muidati che nel 2015 a maggio avevano rimesso dentro 45 mila persone. Il giorno più bello forse fu quando fu riaperta Fontana nel 99 Cannelle, con la musica dell'acqua che da ogni cannella rientrava. Ci sono stati giorni belli, poi ci sono stati anche giorni difficili. È chiaro che io ho riportato una frase, che quando entri nella tempesta non sai neanche se ne sei uscito, ma non sei profondamente cambiato. A me quella cosa ha cambiato, come ha cambiato un po' tutti i cittadini e credo che anche il modo in cui gli aquilani stanno vivendo questa pandemia, questo stare chiusi in casa, sia diverso dagli altri. Perché non vi scordate che ci si parlava fra loro, ma io posso testimoniare la gente che stava negli alberghi, viveva lo stesso come un arresto domiciliare. Il silenzio di questi giorni uguale al silenzio di 11 anni fa, peraltro la stessa settimana si incontrano gli stessi giorni, la domenica e il lunedì, che furono, che segnarono il terremoto dell'Aquila. Sì, io la mattina devo andare da mio padre, che è anziano, ha bisogno di una medicazione tutte le mattine. Mi capita anche, poi faccio la spesa, sono l'unico della famiglia che esce. E rivedo le strade deserte, mi ricordano quando io la notte uscivo, perché finito il briefing intorno a mezz'otteluna, io andavo a vedere come stava realmente la città, andavo nelle frazioni, perché mi dovevo rendere conto nel centro storico e vedevo questo deserto assoluto e io adesso la sto rivivendo. Ripeto, per noi è un richiamo a una tragedia. Io credo che questa notte noi dovremo ricordare le nostre vittime, ma avviene in modo diverso, perché gli altri anni eravamo presi più nella ripartenza, nella residenza. Adesso, chiusi nelle case, credo che certe assenze, una riflessione sulla nostra tragedia, sia ancora più forte. E forse ci può aiutare una cosa, pensare che noi stiamo vivendo adesso questa fase drammatica, ma ci sono popoli nel mondo, fra la guerra, la fame, la disperazione, l'immigrazione, sono persone che vivono questa condizione da anni e anni. Grazie a Massimo Cialente, ex sindaco della città dell'Aquila, il sindaco del terremoto dell'Aquila.